Benvenuti a Merlin Kitken e vabbè scusate per la pronuncia ma io sono un ignorante che non sa fare un cazzo. Adesso andiamo alla cucina. Io non ho una cucina ma ci accontemperemo del mio pentolone per fare le pozioni magiche da quattro soldi come il filtro dell'ignoranza che fa diventare tutti dei grandissimissimi ignoranti senza cervello. Oggi impareremo a fare la pasta e fagioli. Adesso leggiamo la ricetta. Prima di tutto prendete dei fagioli dal vostro frigorifero e se non ci sono andate al supermercato, li dovreste trovare i fagioli in scatolati e se non li trovate andate da un vostro amico e rubateglieli. Ed ecco i nostri fagioli. Prendete della pasta dalla vostra mensola e se non ci sono andate al supermercato e comprate la pasta e se non la trovate andate da un vostro amico e rubategliela. Ecco. Adesso miscugliate i fagioli. Io userò la pentola per le pozioni. Incominciamo. Adesso mangiateli. Alla prossima puntata.